Ciao a tutti e bentornati qui sul canale gioco tra poco per un'altra puntata di Dark Souls 2 Allora, allora, siamo rimasti che dobbiamo andare dal re di ferro, seguitemi! Grazie per la visione! Grazie per la visione! La prima cosa che voglio capire è se hanno mantenuto il punitore che dovrebbe comparire nell'arena una volta abbattuto il demone della forgia Esatto! Allora, ne hanno mantenuto uno? Ok, posso... eh sì Ok Con calma, adesso lo facciamo fuori Allora, la prima cosa da fare è sicuramente recuperare le mie 9000 anime Ok Ok, quello che devo fare è schivare Allora, lo prendiamo... lo prendiamo a due mani... Potremmo usare anche la prima magia No, la magia! No, decisamente... Non gli faccio praticamente nulla Ok, è tutta una questione di... Eh, no... ho aspettato un po' troppo Un po' troppo poco Ok, posso sempre colpirlo due volte Perfetto E vai Perfetto Ok E vai No Ok, adesso provo a colpirlo con il... Colpo... Colpo... No! Allora, aspetta, eh Che devo curarmi Perfetto Mi curo Via! Ok, mi curo alle tue spalle Due Dai, dai Perfetto Sei praticamente morto Uh, lululu No Ok, devo usare un sacco di pozioni Vai Vieni Accidenti Questa volta Mi ha Ai, ai, ai Aspetta Questa non mi ha Ok, perfetto Grazie Grazie Via Perfetto No Ok Sei morto Me la sono un pochino rischiata Ma giusto un pochino Però le valeva la pena Perché l'anello delle lame Più uno È un grandissimo trofeo Ci dovrebbe Sì, dovrebbe essere Allora mi sto perdendo qualcosa Un attimo Allora Qui Forza Forza Ah, ok Vedi, mi stavo perdendo questa parte qui Tre e Quattro Ok Ma qua C'erano dei Esatto Proprio loro Adesso noi Ah Qua c'era il trucco No Ok Ti facevano credere Che si potesse arrivare Dall'altra parte Invece c'è da fare un bel saltino Opla Magari farlo anche dritto Non sarebbe male Ok Perfetto Uh Come fai Oh No Ok Lo spazio Stretto Stava per giocarci Un bruttissimo scherzo Ma ce l'abbiamo fatta Allora Qui possiamo aprire Ah Qua ci sarebbe Da poter mettere Una pietra di parros Vediamo Mi sembra che questo Ci dovrebbe portare Ok A una A una sezione segreta Che ci conviene Assolutamente Per poter arrivare Più facilmente Al boss Se no Eccolo lì Ma no Non arriviamo C'è solo qua Avevo paura Che fosse un mimic Ok Andiamo un po' Anello di quarzo Del fulmine Un più uno Eh si Esatto Qua c'è un bel falò Ok Possiamo riposare Recuperare Tutte le nostre No È una farsa Però È una trappola Lo sai Lo dobbiamo Dovremmo sapere Che non si possono Uh Ah c'è una sezione segreta No Non voglio Vediamo di Entrare Qua probabilmente Verremo attaccati Oh Vieni 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 Nano È il braccino corto Mi dispiace Ah No Volevo farti un bel backstab Tac 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 Dove stai colpendo È impazzita È impazzita Ok Ma questi sono Sono finti Ah qua ci sono delle Ci sono Cacchio Delle balestre Ok Questo gli toglie Praticamente Tutta la vita Ui Come ho fatto a mancarlo Perfetto Devo stare solo Un po' attento Qui Perché Perché Purtroppo Probabilmente Verranno evocate Delle persone Per cercare di Di Farmi Il schedea E poi ci sono Questi Allora Vediamo spazio Ok Forse sono Forse sono Riuscito a beccarlo Non lo sapevo mai Ehi No Non credo Ok Meno uno Il tipo Con lo spadone Poi Il tipo Con lo spadone Sono tutti Scemi Qua Oh Ehi Ehi Ti credi Ti credi Forte Ti credi Forte Vediamo Come te la Cavi Contro Una balestra No No Ok Dov'è finito Dove sei finito Ah però Un po' di danno Gliel'ho fatto eh Ok Poi 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 Cos'è che Cos'è che Si può fare Questo Non mi ricordo Ma sicuramente Ok No Allora Ho suonato Delle campane Quindi Questo significa Che sicuramente C'è qualcosa Che Ho risvegliato Allora Qua Oh Vieni Vieni Ok Farmi prendere La stamina Doppia balestra Ok Ma niente di preoccupante Poi 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 Ma queste Li posso saltare A più pari Probabilmente Crispio Ok Allora Prima di tutto Devo far fuori Qua Dannazione Dannazione Ok Perché Non ha No Gli ho fatto Un perri Maledetto Via Ok 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 Perché il perri Non funziona Sui tetti Maledizione Ok Ok Pai mio Va bene Perfetto Scudo Grande Ok Adesso ci sono solo i nanetti Beh ma i nanetti li posso anche Evitare Ok Cosa Sentiamolo c'è qui Allora Per messaggio Poi attenzione Il messaggio Dio mio No Ok Ho recuperato le mie anime Voglio prendere anche quello che c'è qua Perfetto E poi voglio semplicemente andarmene Ok A questo punto Sono di nuovo a forte ferreo Ok Ora devo Ah Perfetto 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 Devo Solo No Se Ah no Niente Allora sarei potuto benissimo scendere anche Prima Da qua Ok Cosa succede Ok Ho messo Ho messo Boh No Benissimo Benissimo Proprio qua ti volevo Ok Questo l'ho già Ah la devo tirare di nuovo Sì La devo tirare di nuovo Devo stare attento Perché probabilmente Uh Mi hanno tirato una freccia nel ginocchio Ok Devo Madonna Direzione Direzione sbagliata Direzione sbagliata Direzione sbagliata Va bene Dove diamo Devo andare Per fargli nervosire Ah Lì c'è un arciere Non voglio venire colpito a tradimento Vediamo un po' Ok No Non ho più Perfetto Tac Tac Ok Allora Adesso La rogna È che Devo uscire a saltare Vediamo un po' Perfetto Ok 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 Adesso Abbiamo della nostra Tutto il tempo Del mondo Per cui Dobbiamo cercare di Ok Attirare il nostro amico qui Vieni Vieni Boh Perfetto E questo si è fatto bruciare A sto punto possiamo usare Lo stesso trucco Anche per l'altro Vediamo un po' Ok Allora Prima di tutto No Ok Vai Perfetto Perfetto Anche qua possiamo attirare il nostro amico Oh cacchio Questo non l'avevo visto Allora Pariamo E poi Contrattacchiamo Ok Non riusciamo a Ok Vieni 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 Lui è lento In teoria Dovrebbe Dovrebbe bruciarlo Senza problemi Perfetto A questo punto Andiamo a recuperare Quella Quello che C'è Dall'altra parte Ok Un aumento grande Titanite Aspettiamo Che il fuoco Si diradi E voilà Il gioco È fatto Ok Perfetto Bom 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 Abbiamo Siamo riusciti a superare questa Questa parte Però non è finita Allora Sicuramente Sicuramente Adesso arriveranno Ecco Infatti Allora La cosa più semplice È schivare Tac Ok A questo punto Prendiamo di Ok Oh Cristo Qua c'è qualcosa Che non mi ricordo Ecco No Porca miseria Perché sono così lento Vieni Ok Concicuriamo Ehi tu Con calma Possiamo prenderlo Alla distanza È troppo lento Non ce la farà mai Ok È nostro Abbiamo sprecato Tutte le magie Per questo Ciccione Maledetto E non è l'ultimo Se non ricordo male Ce n'è un altro Là dentro Dovremmo essere Quasi A un falò Mette un'ansia Aspetta Qual era Ok C'era la ghigliottina No Ok Probabilmente È giusto Il tempo Che serve Per Per Via No No Caspita Prendiamo Prendiamo Il largo Prendiamo Il largo Curiamoci Ok 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 E lo so È da codardi Però Perfetto Perfetto Ottimo Ok Vai Vieni 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 a farti Abrustolire Non è venuto Porca Porca Miseria No Si sono un po' Rintontiti Questi Questi Mob Ok Questo era l'ultimo Sono abbastanza Sicuro Ok Ok Vai Avrei dovuto Contare un po' Meglio Ok Ok Questo qua C'era una scala Da qualche parte Ah laggiù Perfetto Dovremmo essere quasi al posto Ragazzi Dovremmo esserci quasi Eh Mi sa che qua su c'è No Non c'è il falò Ah ok Bisogna Bisogna guadagnarselo Il falò Con calma Con calma Il sangue freddo Noi saliamo Vi ho trovato il falò Perfetto Allora io Vi lascio un attimo Vado a spendere Tutte queste anime E torno tra pochissimo Perfetto Ancheci qua di nuovo Allora Prima di tutto Esplorare questo Cosa succede Se tiro la leva Ah Si spengono Probabilmente Si spengono Tutte le 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 fiammate Uh La Perfetto Questo rende tutto Molto più semplice Avanti Ok Ok Dannazione E dai Merda Ok Perfetto Ok Fammi vedere Il tuo peggio Ok Ti stordisce Quando fa quel colpo Allora Adesso siamo quasi arrivati al boss Se non ricordo male Anzi Siamo arrivati al boss Mi sa che c'è solo Ancora qualche ultima sorpresa Ok Questo mi sembra che è un boss che ha bisogno di tanto rotolamento Vediamo un po' Sta per uscire dalla lava Il re di ferro Ci siamo Ci siamo Siamo quasi alla fine E' spettacolare Ok Lui è chiaramente una delle grandi anime Si avvicina con un fare maestoso E solo alla fine scopriremo quanto è grosso Eccolo lì Ok Ok Va bene E allora Oh cavolo Ok Perfetto Il suo pugno E' quello che qui dobbiamo mirare Uh E dobbiamo stare attenti perché il Ok Uh Ok Perfetto Stamina 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 Ok 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 Sei sfogato No Ecco Più Più grande nemico di questo boss Cioè Il nostro più grande nemico con questo boss è l'arena Nessun problema Allora Adesso da che parte inizia il nostro amico Ok Perfetto Ok Ci andiamo a nascondere Ok Il problema Perfetto Perfetto Ok Va benissimo Va benissimo Pogliamo il gomito Ok 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 All'ultimo Ok Devo stare solo attento che alle volte fa il doppio colpo Ok 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 E adesso Pogliamo il gomito Ok Ok Sei mio Ok Non ho più estamina Ok Ok Perfetto Stiamo qua Uh Vai Vai Ok 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 Accidentaccio Vieni 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 Via Ok Ok Avrei potuto ucciderlo Però Era meglio Era meglio aspettare Ok Perfetto Aspettare questo Due Tre Quattro Ok 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 Perfetto Ok 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 Vai Sei finito Uff Non è difficile Non è difficile Però Va calcolato Ogni movimento Ok A questo punto Dovrebbe liberarsi Qui la strada Perfetto Ok Ho paura Cacchio che fosse un mimic Ok Cosa abbiamo qua Oggetto pietrificato Va bene C'è un po Troppa Troppa gente morta Qua Perché Perché C'è tutta Sta gente Morta Ok Va bene Abbiamo acceso Un altro Falò Primordiale Non mi resta che Salutarvi E Dìvi Alla prossima puntata Ciao Alla prossima puntata Grazie a tutti.